no va bene se le faccio tutti i toni e allora no io lo faccio tutti ah e ti vuoi unire? ti invito faccio questa partiglia invito a Fabio e a Angoglio Sicuro no almeno tu puoi invitare se vuoi fare se vuoi c'è anche F3 se riesci in 0-2 che F3 oh grazie adesso analizza la macchina come va bene questa bellissima bella eh è una macchina dei tuoi sogni eh quella che sempre desiderate sempre desiderate ah se nulla di gioia quanti spettatori ci sono stasera? uff uno poco quando ne volete? certo certo ah no uno che torino sta controllando la diretta esattamente vedi? eh 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 è molto più di quello che pensi eh 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 ah 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 dai modifichiamo la macchina eh no no va bene perché vabbè non ci sei vabbè quindi Fabio non ci sei allora? eh eh no ne facciamo modifichiamo la macchina ma voglio modificare ma voglio così allora giochiamo il pitch è abbiato se vogliamo giocare si ne fate vedere si sblocchiamo sblocchiamo un po' di oggetti sblocca l' oggetto sblocchalo il pieto principiante ok rinaggianto sbioti azzurazioni gruppo avevo messo alla segnale non ne vai triangles per me il progetto Non lo più ce l'ho o meglio più, ma tu non lo riesco, ma gli altri non lo velo. No, Sentinel questa cosa che hanno messo nelle cose... Ma hanno cambiato questi individui centrali. La senti, Nel? Stai, si sta... Ah, si sta... Eh, questa cosa c'è ancora un consiglio, di volo. Vado a quell'indipto. Ci siede? Ci sta sempre l'insidio, non l'ho visto sì, ma adesso l'altro ancora a loro, non ci hanno messo l'insidio, poi ci sarà la sedia, come macchina, eppure devo dire la verità, non è un baggio, non è un baggio, non è un baggio, non è un baggio, ci sei? Ci sei Fabio? Faccio l'invito o mi invitano a me? Fabio, doppio su acqua, ci sta anche Michele? Faccio l'invito, no, perché non va mai, ci sta l'invito, eccolo, ci sei? Ci sei? C'è anche Fabio? Sì, dovresti avere lì, ok. Fabio, fatto, facciamo un competitivo? No, come ti dico, è una partita, una sfida seria. No, come ti dico, non è un bello, voglio! Sì, non è vero no è che sia un bianco è una lunga è un bianco sicuro che non c'è la fai con il cio guarda il filo guarda 3 scusate aiutano 1 2 2 1 2 Ma che ci faccio in una pararezza? Sano aiuto Ma sta bene Ok, sta andando bene Ciao Grazie a tutti 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 No, no, la stessa Torniamo al menu principale Grazie a tutti 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 Bello Grazie a tutti 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 Fabio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti